Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video nettamente in ritardo, ma d'altronde ho tutto da fare, quindi parliamo di Croazia contro la Nigeria Croazia vince 2-0, Nigeria che è parsa con una buona organizzazione ma con poche individualità davanti e mi ha sorpreso ad esempio non vedere Simi, Simi i titolari è entrato dopo, vabbè, che è entrato ormai mancava poco, ha risultato la legge di 2-0 la Croazia che tra l'altro è passata in vantaggio con un autorete e poi ha chiuso su un calcio di rigore, un calcio di rigore netto lì la sciocchezza, comunque l'inesperienza dei giocatori della Nigeria lì si è vista proprio tutta tutta, insomma, lì ha trattenuto Manzuki in una maniera incredibile e dunque, direi che secondo me è meritata la vittoria, adesso la Croazia è messa bene nel girone perché è l'unica a 3 punti con l'Argentina e l'Islanda a 1 punto, quindi insomma Argentina con un po' di pepe ancora in più e assolutamente, quindi buonissima partita della Croazia direi migliore in campo Manzuki perché ha messo lo zampino sui due gol e mi ha fatto piacere l'ingresso di Piazza alla fine quindi comunque Piazza che abbia giocato, questo mi fa molto 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 piacere comunque adesso staremo a vedere, domani c'è una bella giornata non credo di fare su Costa Rica a Serbia, farò sicuro dopo la Germania e dopo il Brasile non so ancora se fare un video o due, dipenderà da molte cose tra cui anche se c'è la primavera femminile domani quindi starò attento anche a quello beh ragazzi, io vi saluto e do appuntamento a domani con i prossimi video del canale ciao